Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Si trovava insieme ad alcuni amici sulla piattaforma del lago, nella zona di caviate, a Lecco. Poi il tuffo in acqua, da cui non è più riemerso. Un ragazzino di 13 anni è stato recuperato pochi minuti prima delle 14 di venerdì dall'Ario. Sono in corso le manovre disperate per rianimarlo all'ospedale di Lecco, dove l'adolescente è stato collegato all'ECMO, la macchina cuore-polmoni. Il giovane, di origini magrebine e residente a Cinisello Balsamo, Milano, era arrivato in mattinata a Lecco in treno con altri quattro amici. Lui e un altro ragazzino hanno poi deciso di fare il bagno, si sono tuffati, ma il 13enne non è riemerso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti dalla riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Il ragazzino è stato trovato a una decina di metri di profondità e riportato a riva, poi rianimato e caricato su un'ambulanza. Le sue condizioni sono disperate, è rimasto sott'acqua per 40 minuti. Grazie.